Salve a tutti, con questo piccolo video vorrei mostrare finalmente come si risolve il problema della dettatura e della digitalizzazione del testo parlato era una scommessa che volevamo mettere come software nelle attività assistive ma è praticamente risolto da questo servizio online si chiama Dictanote, Dictanote fa quello che abbiamo sempre tentato di fare, basta selezionare la lingua, in questo caso l'italiano, avviare il microfono e il sistema è già in ordine per poter trasformare il mio parlato in dettato quello che veramente stupisce di questo programmino online, di questo servizio online è la precisione della dettatura e l'assoluta mancanza di necessità di istruzione della voce cioè se detto io scrive quello che dico io, se parla un altro scrive quello che dice un altro l'unica avvertenza è avere un luogo abbastanza silenzioso con pochi rumori di fondo ma vedrete adesso come legge molto bene questo strumento, è una cosa incredibile avvio il microfono e comincio a dettare adesso inizio a dettare su questo nuovo servizio semplicemente dopo che l'ho aperto, non ho fatto nessun'altra azione precedente a questo punto a capo ovviamente non è uno strumento professionale non scrive la punteggiatura e vedete ha scritto punto a capo però ho osservato che posso dire virgola oppure alla fine di una frase posso dire tranquillamente punto ecco come vedete il lì la punteggiatura minima la mette basta che io vada a capo e posso continuare tranquillamente a dettare potete anche notare che la velocità di dettatura non è assolutamente lenta ma anche la risposta è abbastanza fedele e accurata senza nessun bisogno, ripeto, di addestramento punto ovviamente questo strumento va revisionato perché il testo che si scrive potrebbe essere un pochino diverso allora io cosa faccio? posso leggerlo ad alta voce con lo strumento Writer e il sistema di lettura Vox basta fermare la lettura e la scrittura bloccando il microfono o lo salvo e me ne faccio quello che voglio oppure posso copiare incollare dentro Writer Vox Writer con il Vox attivo il testo e dopo averlo selezionato leggere ad alta voce questo testo speriamo che si senta adesso inizio a dettare su questo nuovo servizio semplicemente dopo che l'ho aperto non ho fatto nessun'altra azione precedente a questo punto a capo ovviamente non è uno strumento come si vede potrei anche revisionare ascoltando quindi per tutte quelle disabilità o quelle funzioni di aiuto che possono venire dalla dettatura direi che è uno strumento che assolve abbondantemente la nostra esigenza posso anche continuare perché vedete il testo è lì se io riapro il microfono adesso reinizio a dettare e lo strumento aggiunge pezzi di testo a quelli che avevo già messo direi che è uno strumento eccezionale che va divulgato e va utilizzato magari ci sono anche altre funzioni che in questo momento non ho sperimentato però assolve abbondantemente le esigenze di base di una dettatura digitale quindi grazie per l'attenzione questo nuovo strumento può essere utilizzato usando chromium su sodi linux chrome su windows o su tutti gli altri sistemi quindi direi che è un bello strumento che va sperimentato e usato quindi per le guide di sodi linux francesco fusillo grazie dell'attenzione grazie 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 grazie